Cinque arresti, tutti albanesi, per un maxilaboratorio di droga scoperto dalla polizia a Buscate, 45 chili di sostanza e mille piante di marijuana. Ultima piazza e ultima settimana di cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy, nuovi appelli a prolungamento degli ammortizzatori e tavolo di confronto. A proposito di lavoro, 16.000 bancari esodati nella terra di mezzo, ne parliamo con il senatore Stefano Candiani, reduce da una sentenza attesa da 10 anni e con le prospettive del recovery. Riservatezza, privacy e nuove tecnologie, la nuova generazione delle farmacie che ci porta Cardano al campo, a busto, più pedali, più risparmi. È il biellese Luca Prina, il nuovo allenatore della Propatria, poi altro calcio e le ragazze del softball. Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Iniziamo occupandoci di cronaca, 5 persone arrestate dalla polizia a Buscate con l'accusa di produzione e detenzione di stupefacenti per aver allestito un enorme laboratorio di confezionamento di marijuana. I dettagli nel servizio. Scoperto a Buscate dalla polizia di Gallarate un enorme laboratorio dedito al confezionamento di droga. 5 persone arrestate, trovate in possesso di mille piante di marijuana, 45 kg di sostanza stupefacente e una pistola carica. Gli arrestati, tutti albanesi, sono stati bloccati ieri mattina al termine di un'operazione Lampo. Tutta la droga è stata sequestrata. Veramente una produzione industriale in quanto all'interno di questo capannone adibito al vero e proprio laboratorio di produzione della sostanza sono state rinvenute quasi 1200 piante di canapa di altezza superiore quasi al metro e mezzo e sono state sequestrate 35 kg di foglie già essiccate e oltre 15 di infiorescenze. I soggetti tratti in arresto sono 5 cittadini albanesi. All'interno del laboratorio gli agenti hanno trovato un piccolo appartamento dotato di camera da letto con tv, bagno e annessa cucina, luogo di dimora di un probabile custode al quale era stato assegnato il compito di sorvegliare e presidiare l'attività illecita. All'interno di questo laboratorio dotato di tutti i comfort, quindi oltre quelli relativi alla produzione della sostanza, anche è all'interno un vero e proprio appartamento che si presume possa essere stato adibito ad un soggetto che avrebbe dovuto custodire il laboratorio stesso. E all'interno di questo appartamento è stata rinvenuta una pistola Smith & Wesson carica di sei colpi, risultata essere rubata. È ufficiale, dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto a deciderlo il Comitato Tecnico Scientifico che lo ha comunicato ufficialmente con una nota. Nei fatti con tutte le regioni in zona bianca decade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto salvo contesti in cui si creino condizioni di assembramento come mercati e fiere. Le persone devono comunque sempre portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare in caso di necessità e ai fragili, agli immunodepressi, è comunque raccomandato l'utilizzo della mascherina anche all'aperto. Cambiamo ora completamente argomento, lavoratori di Ritaly nuovamente in piazza per un'ultima disperata richiesta di aiuto e di futuro. Dal primo luglio infatti saranno tutti a casa senza paracadute. Un ultimo tentativo, un ultimo presidio, un ultimo appello. Le lancette dell'orologio corrono veloci verso il fatidico 30 giugno, giorno dopo il quale i 1.400 lavoratori di Ritaly si troveranno per strada senza più ammortizzatori sociali. Oggi bandiere, volti e fischietti provenienti da una compagnia nata promettente e precipitata a stretto giro tra lo stupore dei più sono tornati a farsi sentire a Milano per chiedere il rinnovo della cassa, ma non solo. Non siamo qui solo a chiedere il rinnovo di cassa integrazione, ma siamo anche qui per chiedere prospettive industriali e sviluppo di progetti industriali che possano dare e fornire risposte concrete a tutti questi lavoratori che diversamente verranno dimenticati nell'oblio della disoccupazione. Insomma, il bizzarro manicheismo nostrano non smette di riaffermarsi. Da decenni ormai a ogni sussulto targato all'Italia corrispondono tavoli di confronto, trasmissioni fiume, tonnellate di denari pubblici. Ma dal febbraio 2020, data incubo dei lavoratori di Ritaly, a ogni passo, ogni stanza, ogni richiesta corrisponde invece il più assordante dei silenzi o il più imbarazzante dei singhiozzi, tipico canovaccio di un paese abituato a collezionare figli da coccolare e figliastri da dimenticare. Stefano Candiani, da sindaco di Tradate, fu accusato di aver danneggiato le casse del comune per una vicenda legata al pagamento di fornitori, saldo dei mutui e patto di stabilità. Dieci anni dopo, la Corte dei Conti lo scagione e stabilisce che queste scelte contribuirono perfino ad irrobustire l'ente. Ascoltiamo i dettagli. Archiviazione, lavoro, soldi dell'Europa. È un fiume in piena, Stefano Candiani, senatore della Lega, impegnato su diversi fronti e reduce da un pronunciamento che ha il sapore della vittoria e il retrogusto amaro del fango ricevuto. Da sindaco di Tradate fu accusato di aver danneggiato le casse del comune per una vicenda legata a pagamento fornitori, saldo dei mutui, patto di stabilità. Dieci anni dopo, la Corte dei Conti non solo ha negato ogni addebito, ha anche stabilito che le scelte di allora, lungi dall'avere impoverito l'ente, lo hanno al contrario irrobustito. E a distanza oggi di dieci anni tutto questo è stato valutato dalla Corte dei Conti con un indubbio vantaggio economico e anche finanziario per l'ente che ha potuto anche nel cambio di amministrazione. Quindi le amministrazioni che si sono susseguite rispetto alla mia hanno avuto maggiore possibilità di mantenere i servizi, di fare iniziative ulteriori di investimento eccetera per la città che sono da ricondurre appunto a quella scelta. È una soddisfazione che solo in parte ripara ma certamente che dà un senso a un impegno che per quello che riguardò me e la mia amministrazione è sempre stato massimo a favore del comune. Per tornare all'attività odierna Candiani sta lavorando a difesa degli esodati bancari. 16.000 persone sprofondate in un'angosciante terra di mezzo senza più stipendio, senza ancora una pensione e con una dote sulla carta detassata ma oggi decurtata. Ci si trova poi col paradosso oggi di avere questi esodati addirittura tartassati dal fisco che va a chiedere di essere rimborsato, ripagato di fondi che invece erano previsti da questi accordi come esenti da ogni tassazione. Come dicevano gli antichi, pacta sunt servanda. Quando si prendono degli impegni, soprattutto se è lo Stato, non ci può essere una parte dello Stato che poi questi impegni trasferisce. Poi tra l'altro lei prima mi spiegava di un difetto di comunicazione anche tra IMS e agenzia. Ma sì, qui siamo alle solite perché alla fine ci sono interpretazioni che vengono fatte differenti da una parte all'altra dello Stato, nel caso specifico l'Agenzia delle Entrate e l'IMSS. Scoccia che ci siano parecchie decine di migliaia di famiglie, in questo caso messe sul chi va là perché un funzionario, un burocrate o una mancanza di buona volontà impedisce di dare una risposta veloce. Infine il PNRR, cioè il piano che porterà in Italia un'ampia massa di risorse che rappresenta una grande occasione da maneggiare con cura. Vedo sindaci sfregarsi le mani e progettare interventi poco lungimiranti. Avverte, attenti, quel treno non passerà più. Se i singoli comuni si raccordano tra di loro, se la stessa provincia che è un ente che è stato indebolito ma che esiste ancora, fa sintesi tra tutti i comuni, si possono avere maggiori benefici. Penso alle riqualificazioni ambientali e tutto quello che sono le grandi aree dismesse sul territorio, che siano pubbliche o che siano di parte privata, sono sostanzialmente delle aree, se va bene, neutre, altrimenti addirittura a rischio contaminazione piuttosto che inquinamento. Intervenire facendo un grande piano provinciale che risani tutte queste aree e restituisca la prossima generazione delle belle aree verdi su cui poi decidere cosa fare in futuro è a mio avviso un punto di riflessione che deve porsi la politica provinciale. Oltre 100 partecipanti ieri al Golf Panorama per la prima cena elettorale di Varese in azione che nella sua declinazione locale vede in corsa il candidato sindaco Carlo Alberto Coletto, ospite d'onore il numero 2 del partito Matteo Ricchetti, presente in carne e ossa, mentre al numero 1, cioè Carlo Calenda, è stato riservato un saluto a distanza. Ci occupiamo ora di economia, Aime, Camera Condominiale Varesina e Studio Legale Fontana Marsico insieme per definire una nuova idea di condominio. Vediamo di cosa si tratta. La firma di Aime con la Camera Condominiale Varesina e lo Studio Legale Fontana Marsico è tutt'altro che banale perché apre un nuovo concetto di condominio, non più visto come orticello parcellizzato, talvolta litigioso, spesso distante dalla conoscenza tecnica delle novità, ma come luogo di formazione e aggiornamento, di incontro e confronto alla portata di tutti e proteso verso le sfide di una modernità che pretende sostenibilità, nuove sinergie e sguardo ampio. E per dare una nuova forma come associazione e come qualità per gli amministratori di condominio che devono trasformarsi nella mentalità da professionisti a imprenditori e grazie alla loro esperienza potremmo fare questo tipo di salto di qualità che da tempo la categoria chiede. Fondamentale, insiste Aime, il rinvio della scadenza ultima del bonus 110%, strumento importante ma a lenta carburazione. È importantissimo per un futuro avere la dilazione e il portare il termine ultimo che è stato fissato nel 2022 almeno al 2023. I firmatari organizzeranno insieme convegni, workshop e seminari e in Aime sorgerà uno sportello ad hoc complice alla tutela legale garantita da chi in materia vanta una lunga esperienza. E al studio Fontana Marsico è stato assegnato il compito di rendere sostanzialmente più agevole questa traversata che non vuole essere nel deserto ma che vuole essere certamente verso un punto di approdo sicuro per gli associati e per i cittadini che dovessero rivolgersi a questo sportello. Sono una ventina i commercianti che hanno già aderito all'iniziativa Bike to Shop promossa a Busto Arsizio. Scopriamola insieme. Sono già una ventina gli esercizi che hanno risposto presente, molti di più quelli che gli artefici dell'iniziativa sperano di coinvolgere. Il progetto Bike to Shop lanciato in questi giorni a Busto Arsizio si propone di fare tris, sostenere il commercio, abbattere l'inquinamento, spronare il pubblico a una più frequente attività fisica. L'idea è quella che uno più pedale più guadagna. Guadagna in che senso? Ogni chilometro che verrà fatto in bici e verrà registrato sull'app Strava, che è un'app che puoi scaricare liberamente sul telefonino, verranno riconosciuti tot centesimi. A raggiungimento di una soglia verranno riconosciuti dei buoni voucher che il distratto del commercio darà ai cittadini. Questi buoni voucher poi potranno essere spesi nei negozi del territorio, di tutta la città di Busto Arsizio e dopo il commerciante potrà venire da noi con i buoni e gli verranno che ha riconosciuto il totale. L'ideale, spiega Sabba, è che siano gli stessi clienti a invitare i propri negozianti di fiducia ad aderire all'iniziativa che ruota intorno all'app Strava e alla dote messa a disposizione dal distretto. I clienti bustocchi più solerti e allenati riceveranno uno sconto, i commercianti non ci perderanno un soldo e l'ambiente ne gioverà. E certamente l'idea di potersi avvicinare a fare shopping, a fare compere nei nostri negozi con un mezzo ecologico rientra in una complessiva nuova visione della nostra città. Insomma ogni chilometro un credito, ogni credito un voucher per la gioia del girovita e del portafogli. Perché il cliente in bicicletta non parcheggia, non inquina e ti guarda la vetrina. Sempre più tecnologica e soprattutto attenta alla privacy è la farmacia del cuoricino di Cardano al Campo. Addio al classico banco della farmacia che viene sostituito da nuovi spazi insonorizzati, pensati per garantire privacy e riservatezza. Accade a Cardano al Campo dove la farmacia del cuoricino cambia look per diventare sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza. Ho pensato a dei nuovi banconi che non sono più dei banconi di vendita, ma sono dei veri e propri spazi che accolgono il cliente dove si garantisce la privacy e la riservatezza. Al fine soprattutto di avvicinare il farmacista al cliente che diventa un paziente da seguire. I nostri clienti hanno sempre più bisogno di essere ascoltati ed aiutati e noi siamo pronti a farlo in un ambiente accogliente e senza la presunzione di sostituirci ai medici di base, prosegue la titolare. Era già il ruolo del farmacista fondamentale nella sanità italiana, ma il Covid ha aumentato la fiducia che ha il cliente nei confronti del farmacista. Assolutamente non vogliamo abusare del nostro ruolo in quanto il medico è insostituibile, il farmacista deve fare il suo mestiere. E non finisce qui, al via la nuova campagna di comunicazione che vedrà protagonisti i clienti della farmacia cardanese. Ho intenzione di chiedere ai miei clienti di metterci la faccia, il che vuol dire che la gente che passa di fronte alla farmacia vedrà in vetrina i visi dei cittadini di Cardano al campo. È un modo da parte dei nostri clienti di dimostrare la fiducia che hanno nei nostri confronti. Questa sera in onda la terza puntata di Prospettive Estive che vede protagonisti tanti personaggi del mondo dello spettacolo e del cabaret. Ecco un'anteprima. Vivo questi anni difficili se vuoi e in questi anni ho ancora delle cose da fare, cose che mi fanno comprendere che il mio tempo è ora, è qui, cose che mi fanno capire che l'unico momento a mia disposizione è il presente. Oggi è l'attimo da gestire nel migliore dei modi. L'attualità guardata con gli occhi dell'attore Davide Colavini, ma anche di tanti altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Dal cabarettista Stefano Chiodaroli al papà di Zelig Giancarlo Bozzo. Da un altro volto che ha regalato tanti sorrisi fin dai tempi dei 3-3, come Edoardo Romano, al terzo classificato della prima edizione di The Voice Senior nel 2020, Marco Guerzoni, fino al maestro dell'animazione italiana Bruno Bozzetto. L'estate su Rete 55 inizia l'insegna dello spettacolo con la terza puntata di Prospettive Estive, in onda martedì 22 giugno verso le 19.55. A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Domani nuvolosità irregolare al mattino, poi molti cumuli, rovesce temporali nel pomeriggio e in serata, fenomeni localmente di forte intensità, temperature senza variazioni con massime comprese tra 26 e 30 gradi. Con la prima parte del nostro TG abbiamo terminato, ora le sigle e poi la pagina sportiva. A tra poco. Grazie.